ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video me l'avete visto in tanti è periodo quindi andiamo a vedere come si realizza una wedding bag molto semplice ma molto d'effetto per me sarebbe più comodo darvi direttamente il template pronto ma lo sapete mi piace insegnarvi come si fa quindi il processo che vi porta alla realizzazione del prodotto di modo che potete poi una volta imparato il procedimento andare ad applicare lo stesso procedimento per qualunque cosa quindi per quanto riguarda il ridimensionamento del prodotto o per quanto riguarda comunque la sua personalizzazione il web è pieno di template gratuiti o che si possono estrapolare gratuitamente il bello e la parte creativa che possiamo applicare noi è proprio quella della personalizzazione del prodotto il modello che vi faccio vedere adesso ve lo monto direttamente su un foglio a3 perché ovviamente è molto più bello e molto più rifinito un prodotto che viene stampato in un'unica soluzione lasciate stare plotter lasciate stare tutto perché qui non dobbiamo andare a tagliare niente di complicato se avete la possibilità di far stampare fuori in a3 o addirittura in super a3 quindi 32 x 45 centimetri ben venga perfetto iniziamo subito per chi non lo sapesse il formato di carta a3 misura esattamente il doppio di un formato a4 quindi parliamo di una misura di 29,7 centimetri sul lato corto e 42 centimetri sul lato lungo noi dobbiamo andare a realizzare un prodotto che si chiude su se stesso e che contiene al suo interno degli oggetti quindi come abbiamo detto una wedding bag il risultato finale che andremo ad ottenere con la wedding bag aperta è questo qui dove ci sarà uno spazio per il libretto messa uno spazio per le lacrime di gioia quindi i fazzolettini di carta uno spazio per la bag riso e uno spazio per il ventaglietto ovviamente le wedding bag si possono personalizzare in ogni modo sia nella forma ma soprattutto nel contenuto perché non tutti andiamo a fare il libretto messa non tutti andiamo a mettere il ventaglio se mi sposo a dicembre certamente non metterò il ventaglio all'interno della wedding bag magari metterò il piccolo flaconcino per le bolle oppure non ce lo metterò affatto perché si fa la wedding bag la wedding bag è una sorta di cadeau per chi viene in chiesa in chiesa di solito si mette il libretto messa poi qualcuno ha iniziato a mettere anche magari la scatolina o la bustina per il riso per riempire un po' qualcun altro fuori metteva i cesti con i coni riso qualcun altro metteva addirittura un altro cesto con dentro i flaconcini delle bolle oppure sono sempre sul bancone andavano a posizionare un ventaglietto per alleviare la sofferenza del caldo degli invitati all'interno della chiesa ma parliamo di cose più tecniche la prima domanda che ci si pone sempre è quante ne devo realizzare di queste wedding bag quanti libretti messa devo realizzare devo riempire la chiesa ne devo mettere solo qualcuno lo devo mettere soltanto per gli invitati più importanti allora andiamo subito ad analizzare questo aspetto perché è fondamentale questo in alto ovviamente è la postazione degli sposi agli sposi va messo il libretto messa ovviamente non va messa la wedding bag ma va messo il libretto messa è una scelta della sposa perché ci può stare quella che dice io voglio comunque seguire l'andamento della cerimonia mentre sono seduta mentre sono in ginocchio quello che volete voi e quindi ho questo lì mi prendo questo libretto oppure possiamo mettere il ventaglio alla sposa anche questa è una decisione della sposa ovviamente io in teoria sul banco degli sposi non metto niente quando se ne mettono uno o due nel caso in cui vogliamo mettere il libretto messa e il ventaglio sul banco degli sposi se ne mette uno sono in due si dividono tranquillamente il libretto messa e il ventaglio sicuramente non lo userà lui ma lo userà lei quindi se ne mette comunque uno dove li mettiamo li mettiamo al centro dove va messo anche il libretto messa se c'è una postazione specifica seduta per i testimoni va messo ai testimoni quanti se ne mettono uno o due anche in questo caso si mettono a coppie cioè si ragiona a coppia quindi se ne metterà si metterà magari un ventaglio e un libretto messa stessa cosa dall'altro lato se la disposizione è uomini da un lato e donne dall'altro per i testimoni allora metteremo il ventaglio solo dove ci sono le donne per quanto riguarda tutta la chiesa possiamo scegliere di riempire tutti i banchi in che senso quando il banco è da 2 se ne mettono 2 ovviamente ma se il banco è da 3 se ne possono ugualmente mettere soltanto un paio se il banco è da 4 anche lì si può scegliere di metterne 2 quindi ragionare a coppie a 2 a 2 oppure di metterne 3 oppure di metterne 4 possiamo scegliere di mettere le wedding bag in questo caso ma lo stesso discorso vale anche se vogliamo mettere soltanto il libretto messa e il ventaglio il libretto messa e il riso non fa differenza se si era chiuso tutto in una bag oppure siano slegati i prodotti perché c'è a chi piace vedere proprio il libretto messa sul bancone quindi possiamo mettere soltanto ai componenti principali della cerimonia quindi dove ci saranno fratelli sorelle i nonni e i genitori degli sposi oppure possiamo scegliere di addobbare tutti i banchi oppure di scegliere che so ci sono due file da 10 addobbiamo solo le prime 10 quindi saranno 5 da questo lato e 5 da questo lato saremo andati a riempire metà dei banchi e sono i banchi che sono più prossimi verso l'altare quelli che vanno a scendere non avranno nulla oppure potete scegliere di mettere il coordinato completo quindi libretto ventaglio e riso soltanto ai banchi principali e andare a scendere quindi poi magari più indietro mettere soltanto i libretti e più dietro ancora mettere soltanto i ventagli e ancora più dietro mettere soltanto la bag con il riso quando si mette la bag con il riso sui banchi quando non c'è fuori il cesto con i coni riso con le bustine per il riso quindi o le mettete dentro la chiesa o le mettete fuori non fate la stupidaggine di metterli dentro e fuori perché poi è veramente too much perché sono andate queste wedding bag per evitare di avere una tavola apparecchiata cioè nel senso di avere 10.000 prodotti sul bancone quasi fosse un mercatino allora si racchiudono tutti all'interno di una discreta bag che poi il limitato aprirà e troverà all'interno tutti questi piccoli cadeau giustamente quando ci sono questi prodotti c'è un po l'assalto a chi se lo può accaparrare perché una bag chiusa fa curiosità quindi poi magari io che sono seduto qui a destra ce l'ho io sono seduta a sinistra ce l'ho io che sono al centro non ho niente mi sento un po un imitato di serie b non ve lo fate questo pensiero perché è impossibile andare a riempire una chiesa di tutti questi prodotti anche perché è un prodotto che ha un suo costo perché comunque già solo il libretto messa partiamo da un prezzo di 2 euro e 50 a salire quindi dover preparare 60 70 libretti messa è una spesa veramente un po esagerata a quel punto fate solo il libretto messa lasciate stare tutti gli altri gadget fate solo il libretto messa lo mettete a tutti per quanto mi riguarda la parola d'ordine un po la sobrietà cioè meno meno cose mettiamo più elegante è tutto il risultato del del coordinato anche per quanto riguarda la grafica quando trattiamo compleanni andiamoci proprio pesante con le grafiche con le immagini e tutto quando si tratta di cerimonie meno mettete meglio è ma chiusa questa parentesi una volta che abbiamo visto dove vanno posizionati quanti ne vanno posizionati come vanno posizionati possiamo andare a realizzare la nostra bag quindi torniamo dal presupposto che non vogliamo creare un mercatino all'interno della nostra chiesa andiamo a realizzare queste piccole bag quanto sono grandi come sono fatte lo vediamo adesso insieme allora dicevo non mi va di darvi direttamente il template questo ve lo do lo stesso però voglio che capiate il meccanismo per poterle poi rifare in qualsiasi momento e in qualsiasi forma volete abbiamo visto che la struttura della wedding bag è questa che poi verrà richiusa sono tre lembi di cartoncino che vengono richiusi su se stessi all'interno hanno questi oggetti o altri la prima cosa che andiamo a creare ovviamente è la struttura esterna per la realizzazione della struttura partiamo dall'elemento più grande che conterrà la nostra bag i libretti messa il libretto messa lo possiamo avere in formato A5 15x20 cm o anche in formato A6 io adoro il formato piccolo però possiamo avere anche il formato quadrato il formato quadrato di solito è un 14x14 scelto il tipo di libretto messa andiamo a realizzare tutta la struttura esterna allora ammesso che facessimo il classico libretto A5 perché è il più semplice da stampare fate dei piccoli opuscoli A5 li piegate a metà attaccate la copertina e con una taglierina ghigliottina andate a rifilare i tre lati per avere il prodotto perfetto non fate l'errore di non rifilare almeno il lato a destra deve essere rifilato per fare in modo che si veda un taglio dritto e non il taglio a scalare dei fogli dell'opuscolo che si intersegano fra di loro dicevamo creiamo quindi il nostro primo elemento che è il libretto messa A5 quindi ci creiamo un nostro rettangolo gli diamo misura 15 cm x 20 cm gli diamo un colore così ce lo evidenziamo questo è l'ingombro del nostro libretto messa la base della nostra bag sarà leggermente più grande dell'ingombro del libretto messa quindi al di sotto della copertina chiamiamola copertina del nostro libretto ci andiamo a realizzare un rettangolo leggermente più grande ora non c'è una misura definita perciò voglio farvi vedere come si realizza e non darvi direttamente la misura finita allora in questo caso io potrei tranquillamente potete crearmi una base di 16,24 x 21,23 o 16,2 x 16,5 x 21,5 capite il concetto di personalizzazione cioè non stiamo a badare al millimetro gli do un colore bianco ed ecco dove verrà posizionato il mio libretto messa su questo lembo di foglio ora che cosa dobbiamo fare? dobbiamo creare un foglio qui a destra che poi si andrà a richiudere sul libretto messa quindi duplichiamo questo livello e ce lo spostiamo a destra lo portiamo più avanti e ecco che quando andrà a chiudersi la bag avremo la sovrapposizione di questo lembo sul primo quando dovete creare dei prodotti che si sovrappongono in tre parti non fate mai l'errore di creare due parti più grandi identiche quella che si va a sovrapporre nel nostro caso è quella di destra dovrà essere leggermente più stretta ora di quanto la fate più stretta se 5 mm o 1 cm è indifferente quello lo vedete voi io ho calcolato che quando il lembo è chiuso il libretto messa comunque è completamente coperto se il libretto messa fosse stato più piccolo avrei avuto più spazio e avrei potuto scegliere di rimpicciolirmi ancora di più andiamo a creare adesso la parte superiore quindi mi duplico per facilità questo livello e me lo vado a posizionare qui a sinistra ora che cosa succederà? una volta chiuso il lembo sarà sovrapposto si andrà a sovrapporre sia a questo che a quello sottostante di quanto lo vogliamo far sovrapporre anche questa è una scelta posso farlo sovrapporre esattamente alla metà posso farlo sovrapporre leggermente meno della metà o anche più della metà quello lo decidete voi secondo il vostro gusto personale qua rientra poi la parte creativa della personalizzazione del prodotto allora ammesso che io voglia un ingombro di questo tipo ok io mi posiziono sul prodotto e mi vado a restringere fino all'attaccatura della prima base un'altra cosa che possiamo fare in questo momento è quella di decidere come deve essere la chiusura che forma deve avere può avere una chiusura semplicemente rettangolare così dritto per dritto non abbiamo problemi di tagliare curve o fare forme particolari oppure possiamo decidere di fare una chiusura smerlo possiamo decidere di fare una chiusura come la vogliamo noi se lavorate con i plotter ovviamente deve essere un plotter che vi permette di lavorare su una certa ampiezza su una certa lunghezza possiamo scegliere magari di fare una chiusura a ghirigori ma anche per queste cose ragazzi quando si tratta di cerimonie più sono semplici e lineari le forme le linee e più è elegante tutto il coordinato non vi impazzite a fare ghirigori merletti e cavolate varie perché non esiste al mondo non si usa non si usa più cioè quello si faceva negli anni 80 adesso è tutto molto più lineare quindi il massimo che io potrei andare a fare ad una forma del genere ad un prodotto del genere è quello di dare magari un piccolo angolo smussato che potete realizzare attraverso un semplice smussangoli a rotonda angoli un punch a rotonda angoli quindi un prodotto di questo tipo oppure esagerare se voglio esagerare un pochino con la curva e andare a realizzarmi una curva un po' più importante come in questo caso quello che farà la differenza poi sarà la capacità di rendere elegante graficamente il tutto se non volete imbarcamenarvi in grafica perché magari non siete in grado o comunque non sapete dove mettere mano potete lasciare la bag bianca ok e mettere un semplice fare un semplice fiocchetto di chiusura perché tanto qui e qui ci andranno dei fori per chiudere la bag e voi potete tranquillamente creare un fiocchetto a colore quindi se il colore del matrimonio è il rosa cipria prenderete un nastro un bel nastro magari un nastro importante di un bel raso un nastrino di seta ok i classici nastri seta di sciffono quello che volete voi e realizzare un bel fiocchetto di chiusura e la bag è perfetta quindi dicevamo abbiamo realizzato la struttura della nostra bag ce l'andiamo adesso a mettere aperta quindi la impostiamo aperta riflettiamo orizzontalmente questa chiusura allora torniamo a noi abbiamo detto questo lato è quello occupato dal libretto messa non volete mettere il libretto messa qua ci potrebbe entrare tranquillamente un ventaglio di quelli artigianali quindi quello fatto con la struttura in cartoncino e il piedino di legno oppure ci potreste mettere magari una frase particolare che gli sposi vogliono regalare agli invitati oppure una frase o solo la poesia o soltanto la lettura magari che hanno scelto per quell'occasione della messa la mettete soltanto sul fronte in questo modo e evitate di mettere tutto quanto il libretto messa oppure se hanno scelto due letture di mettere direttamente la scritta delle due letture e basta insomma spazio anche qui alla fantasia come volete da questa parte poi andiamo a mettere magari le altre cose allora abbiamo detto che ci possiamo andare a mettere dei fazzolettini due o tre fazzolettini di solito se ne mette anche soltanto uno però se volete potete metterne due calcolate che più fazzolettini mettete più spessore create alla bag più avete bisogno magari poi di aggiungere uno spessore tra una base e l'altra della bag che significa che se volete creare qualcosa che abbia un certo spessore tra questa ad esempio e questa dovete andare a lasciare un mezzo centimetro di spazio quindi avrete una situazione di questo tipo chiusa qui ovviamente sarà tutto un pezzo dove voi andrete a cordonare qui e qui e vi creerà lo spessore di cui avete bisogno per poter contenere prodotti più ingombranti stesso discorso vale da questo lato quindi se lasciate qui mezzo centimetro dovete lasciare anche qui mezzo centimetro ma ammesso che noi volessimo usare soltanto un paio di fazzoletti il problema non sussiste quindi prenderemo il nostro fazzolettino lo inseriremo all'interno di una bustina per alimenti della misura ovviamente che riesce a contenere il fazzolettino non di una misura più grande lo possiamo mettere slegato si può mettere anche senza la bustina ma ovviamente è meno igienico poi soprattutto in questo periodo covid è sempre meglio impacchettare tutto comunque le bustine esistono non costano tantissimo si possono comprare si mettono all'interno questi fazzolettini e poi all'esterno di questa bustina si può scegliere di applicare un semplice topper della larghezza della bustina oppure di fare in modo che venga totalmente avvolta la bustina da una fascia più lunga oppure di mettere addirittura se vogliamo un semplice topper rotondo che tagliamo con un punch oppure che tagliate con la big shot a questo punto magari potete scegliere una forma un po' diversa comunque potete scegliere qualsiasi tipo di forma e utilizzarla come topper per andare a decorare il pacchetto con le lacrime di gioia si chiamano quanto dobbiamo far grande il tutto ovviamente prendete le misure prendete un fazzolettino di carta prendete la misura trovate la bustina e il tutto sarà di grandezza proporzionale alla grandezza della bustina che avete preso per metterci dentro il pacchetto di fazzoletti quanto sono grandi questi ventaglietti questi ne trovate a 50 centesimi l'uno circa su Amazon e sono fatti così mi sono salvata la foto eccoli ok sono fatti in questo modo 60 pezzi di questi li pagate 30 euro significa 50 centesimi l'uno essi richiudono quanto sono grandi hanno un ingombro di 13 centimetri di altezza per 2 centimetri circa di larghezza anche in questo caso potete scegliere sia di confezionarli all'interno di una bustina ma in questo caso non serve perché non vanno a contatto con la bocca con con organi particolari oppure di andare a creare una semplice etichetta facciamola così che avvolge il ventaglietto di modo che poi potete far capitare la potete fermare il tutto sulla bag con un punto di colla a caldo facendo in modo che sia la fascetta che l'avvolge a stare a contatto quindi a prendere la colla a caldo con la bag e non direttamente il ventaglio stesso discorso per le lacrime di gioia potete fare in modo che la colla a caldo vada a contatto con la fascia di carta piuttosto che con la bustina trasparente che contiene i fazzolettini poi andiamo a prendere e andiamo a creare la bustina a riso la bustina a riso anche in questo caso l'ampiezza del cavalierino perché qui andremo a creare un cavalierino che è un chiudibusta a tutti gli effetti sono fatti in questo modo sono due parti uguali con la chiusura sul lato lungo e vengono piegati ovviamente a metà e quella che sarà visibile è soltanto una delle due metà perché si chiamano chiudibusta perché una volta piegato e spillato incollato come volete voi andrà a chiudere proprio farà da chiusura per la bustina alimentare che conterrà il riso o che contiene i biscotti che contiene le caramelle nessuno vi dice che all'interno non potete mettere delle caramelle per esempio delle caramelline alla menta non ci deve essere per forza il riso se il riso l'avete messo fuori e volete lasciare un cadeau agli ospiti potete mettere delle mentine potete mettere qualcosa comunque non cioccolata ovviamente potete mettere qualcosa di gradevole per gli ospiti all'interno della bustina e utilizzerete questi cavalierini questi chiudi busta che cosa si scrive sul libretto che cosa si scrive sulle sulle etichette allora innanzitutto deve essere tutto coordinato quindi la grafica che utilizzate per l'esterno perché all'interno sarà tutta bianca la bag all'esterno creerete magari un minimo di grafica non su tutta la bag ma su questa porzione quindi sul lato che andrà a chiudersi poi potreste anche scegliere di fare un piccolo ghirigoro in basso ma come abbiamo detto prima meno facciamo meglio è meno mettiamo meglio è che cosa si fa come si fa il coordinato si crea un dettaglio si sceglie un dettaglio fosse anche a tema mettiamo proprio l'eccesso un matrimonio tema disney allora dimenticatevi castelli dimenticatevi dimenticatevi personaggi a prescindere allora anche se fosse un matrimonio tema bella e la bestia non fatevi venire in mente a un matrimonio di andare a mettere i personaggi della bella e la bestia a quel punto magari andrete a ricercare delle immagini molto ricercate magari in acquerello magari che rappresentino un candelabbro un orologio una rosa tutti i dettagli che non richiamano il cartone animato ma richiamano gli elementi della storia se proprio proprio volete perché trovate la sposa che vuole proprio l'immagine della bella e la bestia potete prendere un'immagine in silhouette lavorata magari anche in quel caso in acquerelli o comunque lavorata in modo particolare cerchiamo di tenere sempre presente che il matrimonio è una cerimonia elegante e deve rimanere elegante anche se fai un matrimonio stile hawaiano si può fare uno stile hawaiano rimanendo eleganti poi ogni sposo è diverso ogni coppia è diversa trovi anche quello che vuole il tema circo proprio circo circo e la facciamo una carnevalata e buona notte al secchio però di base insomma cerchiamo di far capire agli sposi di non esagerare in queste cose e anche qua sta la professionalità di chi del designer perché ragazzi voi ci mettete la faccia se voi fate un qualcosa di ridicolo o qualcosa di eccessivo quando qualcuno andrà a chiedere ma chi te l'ha fatto questo la faccia ce la mettete voi non ce la mettono gli sposi perché gli sposi proprio al massimo se ne possono lavare le mani se vedono che non tanto piace quello che è stato realizzato dicendo io l'avevo chiesto me l'hanno fatto così e poi voi ci avete messo la faccia allora cercate di realizzare le cose secondo ciò che è giusto e non secondando al 100% le richieste di clienti un po' più estrosi cerchiamo di guidarli dobbiamo saperli guidare comunque chiusa quest'altra parentesi che poi è soggettiva perché c'è chi dice c'è chi attacca l'asino dove vuole il padrone si dice dalle mie parti in tutto e per tutto quindi vuole una cosa oscena io te la faccio oscena e chi se ne frega io personalmente non sono così perché se si affidano a me vuol dire che comunque loro non sono del mestiere e si fidano di quello che gli dico e fino adesso non abbiamo mai avuto problemi in questo senso abbiamo sempre fatto solo delle belle figure allora dicevo che cosa si mette sul libretto messa lo stesso discorso la cosa ideale sarebbe mettere anche solo le iniziali degli sposi e si mettono o qui in alto e si possono mettere o qui in alto potete scegliere di mettere le iniziali o di mettere il nome dei due sposi non si mette nome e cognome se si chiamano Paolo e Francesca li chiamate Paolo e Francesca appunto oppure li potete mettere al centro al centro di solito ci sta bene il monogramma con le iniziali oppure lo potete mettere qui in basso ma se qui in alto avete magari una una avete un'immagine in particolare dove si scrive il nome della chiesa si scrive il nome della chiesa sui libretti se gli sposi lo vogliono lo scrivete e si scrive in alto qui in basso ci va la data del matrimonio lo potete mettere in basso oppure se c'è il monogramma con le iniziali lo potete mettere sotto ma scritto veramente in piccolo e con un carattere quindi con un font molto leggibile molto lineare senza ghirigori quando andate a comporre dei fonti insieme ricordatevi che se usate il corsivo per le informazioni principali che possono essere magari il nome degli sposi qualunque altra informazione poi va messa in una font possibilmente senza herif e molto pulito molto leggibile gli interni del libretto sul retro del libretto messa ci potreste mettere c'è chi ci mette magari la firma quindi che ne so Clio Design metti sotto in piccolo qui in basso vai Clio Design no al massimo lo metti all'interno della copertina sul retro quindi la quarta la terza di copertina ci vai a mettere il ci vai a mettere la tua firma se vuoi il retro del del libretto messa o non ci mettete niente o ci mettete un pensiero una frase un aforisma quello che vi pare se gli sposi lo vogliono non ci va grafica dietro metteteci soltanto al massimo una scritta oltre quello non ci va se tanto mi dà tanto se sul libretto messa avete scritto Paolo e Francesca sposi evitate magari che non serve sono Paolo e Francesca certo non stanno facendo altro all'interno di una chiesa Paolo e Francesca 15 giugno 2022 anche qui scriverete Paolo e Francesca 15 giugno 2022 se qui avete usato un freggio un piccolo corner quello che vi pare a voi un oggettino quello che è lo richiamate esattamente allo stesso modo su tutti gli altri pezzi del coordinato quindi sarà tutto uguale ritorniamo alla bella e la bestia se magari avete utilizzato una composizione con un candelabro e una rosa a terra per dire una rosa appoggiata a terra sul cambiamento che potete fare è che sul fazzoletto mettete Paolo e Francesca e l'orologio sul chiudibusta mettete Paolo e Francesca e che ne so della bella e la bestia che altro c'è e la campana della rosa mentre sul ventaglio mentre sul ventaglio mettete Paolo e Francesca e non lo so una qualsiasi a un piccolo castello la silhouette di un castello per per dire per dirne una basta quelli sono gli unici cambiamenti che potete fare per il resto deve essere tutto coordinato tutto uguale colore di base quando si tratta di cerimonie bianco tipo di carta allora non utilizzate un cartoncino normale è vero che costano di meno però quando si tratta di cerimonie proprio perché ve lo pagano anche di più perché è una cerimonia e si usano prodotti più importanti andate ad utilizzare un cartoncino martellato una milleriche o comunque cartoncini di un certo tipo potete utilizzare un cartoncino perlato potete utilizzare una carta amalfi che sono bellissime potete utilizzare tantissime carte ma preggiate carte stampate no carte tipo tramalegno cose particolari no carte goffrate no deve essere tutto il più easy e minimal possibile quindi andiamo su una carta pregiata che già solo a vederla si vede che ha il suo perché e poi andiamo a giocare con i particolari che possono essere sia gli elementi che mettiamo all'interno di un certo valore e soprattutto per quanto riguarda le cerimonie andiamo ad utilizzare dei nastri pregiati quindi dei nastri particolari volete il pizzo ok che sia un buon pizzo non un pizzo raccattato a 2 euro su una bancarella volete il nastro seta ok utilizzate il nastro seta perciò vi dicevo che una bag anche senza grafica ma soltanto arricchita da un nastro importante fa la sua bella figura a prescindere quindi che altro vi devo dire sulle wedding bag che altro vi devo dire su questo argomento credo che abbiamo detto tutto per quanto riguarda i matrimoni e i coordinati dei matrimoni se volete sapere qualche altra ah neanche a dirlo non lo dovrei neanche dire ma la wedding bag deve essere in coordinato con l'intero coordinato del matrimonio se in chiesa abbiamo una wedding bag di questo tipo abbiamo detto la bella e la bestia quando andiamo al ristorante limitato sia sul tableau sia sui menu sia sui sui cartellini per i gusti dei confetti sia sul segnaposto se lo facciamo ovunque ci deve essere lo stesso tema la stessa linea gli stessi colori quando creiamo un matrimonio deve iniziare con una linea quindi si crea un si inizia da casa con quella linea e si finisce quando ritorniamo a casa con quella stessa linea ok per avere un'omogeneità un'altra cosa che si può fare per i matrimoni ve l'ho già detto in un altro video è quella di associare un profumo un tipo di essenza al matrimonio quindi magari possiamo spruzzare questa essenza sulla wedding bag la possiamo spruzzare un po' qua e là per fare in modo che la parte emozionale del cervello degli invitati si ricordi del vostro matrimonio quando va a sentire quell'odore quell'essenza gli rimane comunque in memoria magari scegliamo un limone facciamo un tema amalfi tema molto molto scelto per i matrimoni facciamo una spruzzata di limone di essenza di limone quando sentiranno il limone gli andrà il ricordo del vostro matrimonio ok credo di avervi detto tutto allora io queste misure questo template ve lo lascio scaricabile in descrizione e poi voi comunque fateci un po' prendete le misure che volete fate un po' come vi pare l'importante per me è che avete capito il meccanismo del tutto una volta capito il meccanismo ragazzi ve le fate da sole cioè non avete bisogno di nient'altro e sono sicura che anche quando dovete andare a realizzare qualche altra cosa di questo tipo seguendo questo tipo di istruzioni sarete in grado di farvele da sole di farvi da solo qualsiasi cosa non ho idea di quanto è durato questo video spero di riuscire a ridurlo il più possibile però non mi piace darvi la pappa la pappa pronta voglio che capite tutto quello che c'è da capire tanto poi alla fine mi fareste comunque delle domande e sono sicura che comunque mi avreste chiesto ma quanti se ne mettono dove li metto come li incollo come li chiudo quello che faccio me l'avreste chiesto lo stesso allora evito di perdere tempo a dirvelo dopo ve lo dico direttamente nel video quindi guardatevi video dall'inizio alla fine perché ci sono tutte le informazioni di cui avete bisogno per quanto riguarda le wedding bag e i matrimoni in generale quindi niente per oggi è tutto scusatemi per le chiacchiere vi lascio un bacio un abbraccio come sempre e alla prossima ciao